In primo piano l'attesa per le decisioni che verranno prese entro stasera al termine di un nuovo vertice in prefettura sulla riapertura delle scuole a Pescara in attesa appunto di questa notizia però le prese di posizioni sono tante si sono seguite nel corso del fine settimana e sono tutte all'insegna della prudenza quindi è facile che si vada ad una decisione di reiterazione dell'ordinanza del sindaco Carlo Masci che comunque ascolterà in prefettura assieme al prefetto anche un po' il resoconto sanitario di questi ultimi giorni più in generale non si escludono provvedimenti che riguardano l'Abruzzo per la possibile sospensione ulteriore delle elezioni vedremo cosa accadrà nelle prossime ore nei prossimi giorni tenuto conto ovviamente dell'andamento della epidemia ma per le ultime proprio da Pescara dove appunto è attesa la decisione il nostro Fabio Lussoso e te la linea Fabio quali novità ci sono? Sì Carmine buon pomeriggio buon pomeriggio ai nostri telespettatori siamo qui presso l'ufficio del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per fare il punto della situazione in merito all'emergenza coronavirus con una particolare attenzione verso la riapertura o meno delle scuole come noto l'Abruzzo è in zona arancione sì però le province di Pescara e Chieti sono in zona rossa proprio per una disposizione del presidente della giunta regionale Marsilio vista l'impennata dei contagi nelle ultime settimane allora con il presidente Sospiri facciamo il punto sulla possibilità di riaprire o meno le scuole qualcuno ha ipotizzato presidente la possibilità di riaprire già mercoledì prossimo però vista l'aggressività di questo virus soprattutto della variante inglese sembra un provvedimento inopportuno? è molto difficile parlare con leggerezza dell'apertura o meno alla frequentazione delle scuole in primo luogo perché a questi bambini e ragazzi noi destiniamo un presente di assenza di relazioni molto difficili poi perché non tutti i genitori non tutti i nuclei familiari hanno una immediata capacità di organizzarsi ma dobbiamo essere molto realisti io in passato sono sempre stato molto molto contrario alla chiusura delle scuole fin quando però il nemico con cui noi ci confrontavamo era il Covid-19 per come lo avevamo conosciuto cioè un'infezione che viaggiava velocemente che aggrediva in particolare le persone più in avanti negli anni tutto sommato non vi erano risultanze scientifiche della trasmissione così immediata per il tramite di giovani e di bambini invece la situazione attuale che viviamo nell'area metropolitana è chiaramente quella di un'impennata dovuta alle varianti del Covid e soprattutto quella che viene ormai conosciuta comunemente come variante inglese che aggredisce con particolare velocità superiore al Covid per come lo avevamo conosciuto e con una particolare trasmissione tra i 3 e i 12 anni ora noi abbiamo fatto un sacrificio immenso, doloroso e faticosissimo quello di richiedere noi la zona rossa nell'area metropolitana guardo a questa parte del territorio abruzzese come alla parte più commercialmente presente già fiaccata da più di un anno di chiusure, riaperture, parziali chiusure, parziali riapertura se non avessimo l'assoluta certezza che non si può reggere la riapertura delle scuole non avremmo chiesto di riportare l'attenzione su questo tema non è pensabile avere una zona rossa dove noi diciamo che un bar o un negozio di abbigliamento o una gioelleria non possono stare aperti ogni luogo è possibile fonte di contagio ma ce ne sono alcuni che sono effettivamente maggiormente controllabili e dire che si può tornare tranquillamente a scuola anche le famiglie lo comprendono anche le famiglie che affrontano disagi lo comprendono non è possibile riaprire le scuole mercoledì sono certo che il sindaco di Pescara perché per le scuole primarie è il sindaco che provvede al provvedimento ma in generale in tutto Abruzzo sono certo che ci saranno i supporti scientifici per affermare quello che invece io dico ispirato dal buonsenso le scuole non possono riaprire assolutamente dobbiamo stingere i denti in questi 15 giorni far flettere questa curva di contagio così importante sapere che c'è un ospedale Covid che abbiamo realizzato e che qualcuno pensava fosse inutile meno male che lo abbiamo fatto altrimenti oggi staremmo piangendo molte più vittime che è stracolmo con sanitari che fanno turni massacranti e che cercano ogni giorno di contrastare questo maledetto virus non aggiungiamo problema al problema troviamo il modo invece economicamente con il bonus babysitter di sostenere lo sforzo organizzativo che devono fare le famiglie ringraziamo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ricordando Carmine che oggi pomeriggio alle ore 18 è stata convocata una riunione tecnica presso la prefettura di Pescara parteciperanno tutti i soggetti coinvolti per contrastare il diffondersi del virus ascolteremo e seguiremo questi lavori per tenervi aggiornati e per vedere che cosa verrà deciso in merito appunto alla riapertura delle scuole per il momento è tutto restituisco la linea allo studio ringraziando Andrea Berardinelli per il collegamento qui in diretta dal consiglio regionale di Pescara quest'addeno